La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Andrea Salvatori, che cosa rappresenta per lei il giardino del futuro? Parlando di giardino, è chiaramente più già implicita in ognuno di noi l'idea di voler dare un ordine. L'idea che colui lo progetta e costudisce questo giardino sia in qualche modo depositario delle magie del linguaggio, del potere di nominare ogni cosa e in tal modo diventarne parte, perché chiaramente il giardino ci ricorda l'Eden, da cui però siamo stati cacciati. Il giardino ci riporta sempre un'idea di buona natura e benefica, di un rapporto in cui la relazione fra uomo e natura era perfetta. Quindi il giardino del futuro per me è un po' questo. Cioè di interrogarsi oggi sulla una possibile buona relazione fra natura e uomo. E cosa c'è di più umano, ma anche di più vicino alla terra, come materia prima plasmabile se non la ceramica. Ecco, io ho sempre pensato che la terra con cui faccio i miei lavori è poi la stessa argilla che si trova sopra i calanchi faentini. Ed essendo io molto legato al territorio in cui vivo è molto ispirato dai miei passaggi, che mi piace osservare a lungo nella quiete, quando mi è stato proposto di allestire un giardino con la colorazione dell'Aboca Museo, mi è sembrato subito una bellissima proposta, per poter finalmente dialogare le mie opere in maniera diretta con le piante. Perciò sì, il disegno implicito è quello di interrogarsi sul futuro di questa relazione che pare essersi guastata. Immaginare questo percorso come un'interrogazione attiva sul futuro. Un percorso che non vuole proporre delle soluzioni, ma delle domande. Così le mie opere non fanno altro che punteggiare, tratteggiare il folto di questo bosco di piante resilienti, con domande aperte, visioni, preoccupazioni per tutto umane, talvolta con un pizzico di autoironia su quello che è la nostra povertà di mondo. Proprio per questo progetto e dalla residenza qui a Caserma archeologica sono nate due mie nuove opere, che sono in qualche modo il frutto di questo dialogo aperto con degli interrogativi e che volgono proprio lo sguardo per me in una nuova direzione artistica. Ecco, parlo appunto di interrogativi perché secondo me è questo che deve fare l'arte con il suo linguaggio particolare che è come la poesia. Si fa leggere in molti modi. Ecco, dicevo, questo linguaggio è proprio fatto apposta per interrogarsi e aprire nuove strade pensate. Grazie.